Ora riprendiamo, prendo di là, aspetta eh, guardate che scuola grande, mia, scappi, guardate c'è un tavolo, tutto un disastro, più di dieci anni, mia, c'è altre scale, c'è un'altra parte, come è grande, guarda, sentivo dei passi, guardate qua, c'è una scuola, la guarda, come si chiama? Sì, è meglio, è gente che passa di qua, è alto, è sì, guardate, guardate qui sia, guardate che scuola grande, lentichi, sono troppo margini, Qua giù è buio, non si può andare, perché non si vede niente? Sì, non lo so, mi sembra di essere la colonia, con le scale. Guarda che alto, guarda che gigantesco, mamma mia gente, è che grandiosa. Sì, dappertutto, mamma mia gente, saranno i miei 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 miei? E' una classe, guardate gente, i bagni, questa è una piccola classe, la vedi? Mamma mia, che grande! E' un po' che vuoi? E' un po' che vuoi? Guarda come ci puoi andare, guarda che macello qua, guarda, si si può andare qua. ... C- 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 Sotto- C- Sopra, è grandissima! guarda mia la scensore è bloccato c'è un libro conoscere c'è ancora più in alto attenta un uccello morto guardate c'è un uccello morto un uccello morto un uccello morto un uccello morto ah sui colombi via pieno di colombi via colombi di merda va grandissima io so come vuoi andare via tutta la via i bagni eh faccio la pipì c'è il bagno e faccio la pipì perché mi ha spinguto qua riprendiamo invece la pipì la pipì la pipì la pipì la pipì l'interno il mobile è buttato giù ora devo fare pipì la spengo un attimo grazie 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 grazie